Ciao da Marco Agustoni, oggi parleremo di logo design e vedremo quali sono i 10 errori da non commettere quando si realizza un progetto. Partiamo subito dal primo errore abbastanza comune, affidarsi ai trend del momento. Questa qui è a mio avviso la cosa più sbagliata che si possa fare, infatti mai affidarsi alle tendenze del momento. Molti cosa fanno? Vedono che in un determinato periodo vanno di moda i loghi con sfumature sovrapposte piuttosto che con determinate caratteristiche e allora iniziano a seguire quella tendenza, poi però scoprono che la moda è passata e cambiano. Questo è assolutamente sbagliato perché i trend vanno e vengono, un logo invece per funzionare dovrebbe durare nel tempo. L'obiettivo infatti dovrebbe essere quello di creare un'identità unica per il cliente ignorando completamente le tendenze del momento e del periodo. Provate a pensare al logo della Nike. Questo logo ha oltre 40 anni ma tutt'oggi funziona ancora perfettamente. Il secondo errore che commettono tantissimi designers è quello di iniziare un progetto operando direttamente sullo schermo. Quando si inizia un progetto di logo design è sempre meglio partire da uno sketch su carta e cercare di mettere nero su bianco tutte le idee che passano per la mente. Il mio consiglio è quello di iniziare con un foglio e una matita cercando di immaginare il marchio finale. Ve lo dico, operando direttamente su Illustrator rischierete di limitare notevolmente la creatività e la fantasia e ve lo dico perché ci sono passato e a tal proposito volevo avvisarvi di una cosa importante. Abbiamo infatti creato Logo Hero, una community ma anche un percorso di informazione per chiunque desideri apprendere i nostri metodi e le nostre strategie per arrivare a costruire un logo efficace e funzionale in ogni situazione. Tra l'altro abbiamo preparato delle lezioni gratuite appunto sul logo design che ho inserito in descrizione quindi se volete accedere ai video gratuiti trovate il link proprio qui sotto nella descrizione. Parliamo adesso del terzo errore più comune nella realizzazione di loghi. Ho detto che quando si inizia a progettare un logo è sempre meglio partire da uno sketch su carta. Però molti cosa fanno? Arrivano magari alla fase di digitalizzazione e utilizzano un software sbagliato. Utilizzano Photoshop. Questo qui è un errore che vedo spesso commettere da chi si approccia al logo design. Perché non va utilizzato Photoshop? Perché Photoshop è un software adibito all'elaborazione di immagini raster e quindi utilizzare Photoshop per creare loghi è assolutamente sbagliato. I loghi vanno creati in vettoriale quindi in Illustrator per tutta una serie di motivi e vantaggi che dovresti sapere. Quindi devi utilizzare Illustrator per il quale fra l'altro ho preparato un corso gratuito che puoi trovare in descrizione. Quindi in descrizione trovi sia il link per accedere a Logo Hero che per accedere a Illustrator Startup. Vediamo adesso il quarto errore che è quello di utilizzare immagini vettoriali in stock. Acquistare e scaricare immagini stock da siti web come Vector Stock o Creative Market non è di certo un crimine sia chiaro ma potrebbe essere un problema nel momento in cui vengono utilizzati alcuni elementi all'interno di loghi anche se con regolare licenza. Un logo dovrebbe essere infatti unico ed originale e il contratto di licenza dovrebbe essere esclusivo per quel cliente. Qual è il rischio di utilizzare immagini acquistate in rete? Che ovviamente qualcuno potrebbe averle già utilizzate in parte all'interno di altri progetti. Errore numero 5. Progettare per se stessi e non per il cliente. L'ego del designer è un potenziale problema da risolvere. Quante volte vi sarà capitato anche a voi di progettare seguendo i vostri gusti personali? Anche a me piacciono determinati colori o determinati font ma non significa che ogni progetto debba essere simile. Domandatevi piuttosto qual è il carattere tipografico o il colore più appropriato per il logo che sto progettando. Un font tecnologico per esempio di cui magari sei particolarmente innamorato andrà bene per un business serio come quello di uno studio legale? Decisamente no. Il mio consiglio quindi qual è? Rimanete sempre focalizzati sulle esigenze del cliente attenendovi al brief stilato all'inizio. Il sesto errore nella realizzazione di un logo è creare qualcosa di troppo complesso e dettagliato. Progettate in modo semplice. Questo non finirò mai di dirlo. I disegni molto dettagliati infatti non funzionano a dimensioni ridotte. Pensate per esempio ad un logo composto da un'impronta digitale. I dettagli dell'impronta si percepiscono solamente da vicino. Se viene stampato in piccole dimensioni il disegno perde qualsiasi tipo di dettaglio e il risultato sarà simile ad una macchia. Il logo dovrebbe infatti essere memorabile e uno dei modi migliori per farlo è mantenere una certa semplicità. Basta dare un'occhiata ai loghi più famosi. Errore numero 7. Fare affidamento solo ai colori. Questo qui è un errore molto comune. Conosco tantissimi designers che non vedono l'ora di applicare il colore al logo che stanno progettando. Considerate che la scelta del colore dovrebbe essere l'ultima decisione. Quindi è meglio iniziare a disegnare un logo in nero o in grigio in modo da potersi concentrare sulla progettazione e allo stesso tempo anche il cliente non verrà distratto da preferenze di colore. Perché non bisogna affidarsi subito al colore? Perché il cliente prima o poi potrebbe avere la necessità di utilizzare il logo ad un solo colore. Pensate per esempio alla stampa sui quotidiani, sulle vetrine oppure sui gadget come penne o portachiavi. In tutti questi casi spesso il logo deve essere stampato ad un solo colore. Vi consiglio quindi di evitare il più possibile l'utilizzo del colore per distinguere determinati elementi in un logo, altrimenti potrebbe succedere proprio questo. Quindi riepilogando, quando progettate un logo fatelo inizialmente in nero o in grigio in modo tale da potervi appunto concentrare sulla progettazione e solo nell'ultima fase applicate il colore. Un altro grave errore è usare troppi caratteri tipografici. Un logo funziona meglio se composto da uno massimo due caratteri. Vi consiglio di limitare il numero di font scelti in modo da evitare qualsiasi tipo di conflitto visivo. Ogni carattere tipografico infatti è diverso e le persone hanno bisogno di tempo per riconoscerlo. L'utilizzo di un massimo di due caratteri abbinati in modo corretto è una pratica standard. Utilizzate quindi due caratteri se volete migliorare notevolmente la leggibilità e riconoscimento di un logo. Il per ultimo errore di cui vi voglio parlare oggi è scegliere il font sbagliato. Ho detto quindi di usare un massimo di due caratteri tipografici però devono essere i caratteri corretti. Decidere quale tipo di carattere utilizzare per un logo è estremamente importante ed è un fattore significativo per riuscire a plasmare l'identità di un marchio. Bisogna assicurarsi che il font sia appropriato per il business che deve rappresentare e in secondo luogo per l'uso che se ne farà. Ricordate che anche in questo caso bisogna evitare di seguire le tendenze usando un tipo di font che sia di moda e tra l'altro in Logo Hero abbiamo dedicato un'intera sezione proprio alla scelta del font e dei colori. Quindi vi ricordo di fare clic sul link in descrizione, iscrivervi a Logo Hero e accedere alle lezioni gratuite. Bene vediamo adesso l'ultimo errore. Ultimo ma non per importanza. Copiare. Copiare infatti è diventata una pratica sempre più comune vista l'ampia mole di informazioni presenti sulla rete. Come ho già detto in precedenza il logo deve essere unico. Copiare dagli altri infatti non porterà alcun beneficio né al cliente né a voi stessi. Ricordate la frase di Picasso? I cattivi artisti copiano quelli buoni rubano e per rubare si intende prendere qualcosa di un altro, farlo proprio mostrandolo in un modo tutto nuovo e soggettivo. Per poter creare qualcosa di nuovo ed unico occorre però conoscere tutte le fasi del processo creativo di un logo. Quindi dal design brief al brainstorming, dallo sketching alle scelte di colori e font, dalla costruzione vettoriale alla presentazione al cliente. All'interno di Logo Hero abbiamo condensato tutta la nostra esperienza maturata in anni e anni di lavoro. Quindi vi ricordo di fare clic sul link in descrizione e accedere ai nostri video gratuiti.